Paola Forneris, sindaco uscente, si ricandida con Insieme per Bosco Nero e questa sera presentata la squadra con tanti giovani. Sì, sono davvero entusiasta, è stata una serata meravigliosa, mi hanno dato un sacco di energia, tanti giovani e devo dire che sono il motivo per cui ho deciso dopo 20 anni di continuare in questa straordinaria e faticosa avventura che è fare il sindaco, perché ho pensato che se sono riuscita a ispirare nei giovani un sentimento di fare gratuitamente qualcosa per il bene pubblico non potevo mollare. Quindi sono qui questa sera a presentare la mia candidatura con i miei compagni di squadra, proprio grazie all'entusiasmo e alla fiducia che i giovani mi hanno dato. Tanti giovani ma anche delle riconferme che l'accompagnano in questa avventura. Sì, la mia squadra continua pressoché al completo, siamo in sette che continuiamo della vecchia amministrazione e questo è un altro degli elementi che mi hanno spinta a continuare. Se siamo riusciti, nonostante le fatiche e gli attacchi che abbiamo ricevuto dall'esterno, a rimanere insieme fino alla fine e a decidere di continuare su questo percorso, credo che ne valga la pena. Chiedo un buon applauso. Grazie. 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 Grazie.